Grazie a tutti. Come si può vedere dalle immagini, la strada, in alcuni tratti, è stata trasformata in una discarica a cielo aperto di materiale di varia natura. D'essa veramente stupore il persistere di comportamenti incivili ed inquinanti, proprio mentre le autorità comunali incoraggiano la raccolta differenziata dei rifiuti. Ci auguriamo che al più presto chi di competenza provveda a restituire decoro a questo tratto della periferia di Viterbo, con la rimozione dei rifiuti e che non abbiano più a verificarsi segnalazioni di atti così lesivi dell'integrità del territorio urbano. Grazie. 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 Grazie.